con Marco Del Vecchio dopo aver ricevuto questo premio pallone d'oro e porpora grande cannoniere con nove reti battuto per due gol soltanto in Coppa Italia però da Dino D'Agosta che ti ha consigliato il premio Marco sì, è un'emozione particolare perché insomma non avevamo sempre parlato di lui ma non l'avevo mai conosciuto conoscere e ricevere questo premio da lui insomma è motivo di grande soddisfazione ecco tu prima sul palco al momento della premiazione hai parlato di una Roma sfavorita in genere chi è sfavorito poi alla fine si aggiudica il derby però tu ne sai qualcosa? sì, quindi speriamo bene speriamo che si confermi questa tradizione speriamo che la Roma possa vincere domenica continuiamo con le interviste per lmr1.tv qui dal Ducati Caffè di Roma e siamo con il bomber dei bomber per quanto riguarda il derby con Dino D'Agosta direttamente da Verona per ritirare questo ambito premio D'Agosta una sensazione particolare un'emozione particolare a distanza di tanti anni? sì, perché quando si viene a Roma a vedere il pubblico di tanta gente per una manifestazione sempre dà una grande satisfazione morale tanto di quello che ho fatto nel passato è anche servito a compito premio il pallone d'oro e purpura consegnato dal maestro bomber Dino D'Agosta al grande supermarco del vecchio ci sono situazioni ovviamente oggi ricordiamo Gabriele come ultimamente è stato ricordato anche un tifoso della Roma Antonio De Falchi di cui troppo spesso se ne parla troppo poco questo per ribadire che dentro e soprattutto fuori gli stati non devono succedere simili accadimenti e che tutti devono avere responsabilità sicuramente la tifoseria ma anche le istituzioni le forze dell'ordine e le stesse società dovrebbero investire un pochino di più in quella cosiddetta cultura sportiva facendo tornare la gente allo stadio in un calcio troppo moderno troppo televisivo e troppo legato magari alla paper film un'incisione che significa il senato del Paolo Romeno con la quale Roma ha dato la civiltà al mondo questo è il simbolo che è la base della storia del mondo responsabile della comunicazione della Rugby Roma che riterrà un premio qui alla sera del 7 Colli Giallorossi proprio per gli 80 anni della Rugby Roma Massimiliano Mosetti Siamo molto contenti di essere qui è un premio per gli 80 anni della società quindi è un piacere essere qui insomma al di là dei colori perché poi sapete che nel rugby i colori non esistono anzi i colori non dividono ma uniscono nel rugby quindi sono venuto a portare anche questo messaggio in vista del termine bene Massimiliano Mosetti al Ducati Caffè per il premio 7 Colli Giano Rossi tanti sono contenti di vedermi quanti vogliono andare via subito quanti sanno che tornerò a trattare io ho alzato il braccio finora e tutti quanti sono della Roma quanti allontzeranno gli estremi allora con Massimo Bagliato stavolta l'ho pizzicato ragazzi per il pronostico di Lazio-Roma non si può sbagliare ce lo dice davvero stavolta non come quella volta all'Olimpico Lazio-Roma allora stavolta sono più che mai deciso perché lui mi ha detto guarda ma stavolta dillo perché ci tengono aspettano i pronosti quindi Lazio-Roma finirà questo ce lo dico lo garantisco e poi confrontate cioè confronto diretto controllo incrociato Massimo Bagliato è questo ragazzi se lo prendi così continuiamo con la serata qui dal Ducati Caffè per il premio 7 Colli Gianrossi premio VIP che verrà assegnato stasera alla conduttrice Showgirl con struttura televisiva Antonella Mosetti ciao Antonella grazie ciao buonasera di fede romanista chiaramente allora come stai vivendo il momento della Roma proprio alla vigilia di un derby ma è un po' nervosa e non so io mi sento come risultato un zero a zero sarebbe no senza litigare firmeresti sì io sì grazie grazie ecco direttore del canale monotematico della società giallorossa insomma Alessandro una serata particolare alla vigilia della 166esima stracittadina Roma che comunque parte svantaggiata sulla carta sul pronostico ma una squadra la Roma sempre di grandissima qualità è così la Roma sempre di grandissima qualità di qualità superiore alla Lazio insomma su questo credo che non ci siano molti dubbi è chiaro che la classifica dice qualcosa di diverso per il momento però obiettivamente sai il derby come si dice con la frase più banale sfugge ad ogni pronostico ci sono diversi problemi c'è una situazione insomma un po' particolare legata anche a One che insomma oggi purtroppo questo non sta benissimo e quindi la Roma ci arriva con diversi giocatori infortunati però quest'anno abbiamo una rosa importante e credo che qualora Ranieri decidesse di schierare per esempio il tridente o i tre giocatori offensivi che abbiamo visto in campo con il Basilea certamente possiamo mettere in difficoltà anche questa Lazio che ha dimostrato negli ultimi partiti una buona solidità difensiva il direttore di Roma Channel Alessandro Spartà qui al Ducati Caffè per questa terza edizione del Sette Pogli Giallo Rossi grazie grazie a voi buon lavoro lo sai che con questo tipo di match con Roma e Lazio una match di grande un grande contesto potrebbe essere la partita di qualsiasi persona perché la passione suona forti grazie buonasera a tutti grazie buonasera il romanista Carmine Fotia il quale ha consegnato poi il premio della serata del Sette Pogli Giallo Rossi al Super Bomber Dino D'Acosta quindi io mi auguro che questo premio che ho avuto l'onore di consegnare a un grande bomber che di gol nei derby ne ha fatti tanti che questo sia da auspicio per il derby anche se io sono la penso come il capitano la Lazio è sicuramente più forte e quindi sicuramente la Lazio vincerà il derby con un gol e allora con Raisa Hunter il presidente Roma Club Malta un pronostico veloce per questa 166esima stracittadina della capitale 1-0 col di Porriello al noventesimo minuto vittoria della Roma e sicuramente segna menese guarda Lara Lazzari autrice di tanti bellissimi quadri Roma allora Lazio Roma 1-2 con i protagonisti della serata con gli ideatori del premio 7 colli giallorossi Alessandro Mirza e Fabrizio Pacifici un brevissimo resoconto della serata allora Alessandro sì è stata una serata bellissima perché abbiamo avuto qui alla vigilia del derby due protagonisti in assoluto dei derby Roma-Lazio in particolare per la Roma Marco Del Vecchio Dino D'Agosta 9 reti a testa 11 per D'Agosta se contiamo quella in Coppa Italia quindi che dire il 7 colli è un evento che va fatto alla vigilia dei derby abbiamo avuto il top finora dei derby è stato perfetto Fabrizio fino adesso il premio del 7 colli ha sempre portato bene tantissime premiazioni come la vedi per questo derby questa 166esima stracittadina della capitale come si dice non c'è due senza tre ricordiamo che il 7 colli giallorossi non è stato solo calcio ma anche spettacolo c'è stata addirittura Clayton North Cross di Beautiful che tu hai intervistato Antonella Mosetti Massimo Bognati quindi sport e spettacolo al 7 colli giallorossi non c'è due senza tre per il domenica prossima io sono fiducioso questa volta l'Aquila Olimpia non volerà poi c'è una vecchia canzone che parla di Olimpia che tu metterai di sottofondo mi raccomando Giuseppe Leanza presentatore della prima storica edizione del 7 colli giallorossi allora grazie Alessandro Mizza grazie a Fabrizio Pacifici dal Ducati Caffè in Roma è tutto e alla prossima edizione ciao